come creare un sito web senza crearlo è molto semplice comprandolo e ad oggi nel 2022 è impensabile a meno che proprio uno non è squattrinato pensare di mettersi a creare manualmente un sito web o rivolgersi a realtà che magari per un sito semplicissimo un sito si sparano 4 5 mila euro sono sono prezzi esorbitanti un'azienda può farlo una grossa realtà un e commerce uno che vuole una una struttura ben fatta può ragionarci ecco ma in realtà se uno vuole fare un sito web senza farlo praticamente basta che va su fiverr scritto fiverr puntocom cerca website ed ecco qua fiumi e fiumi di siti web allora sicuramente va detto che molte di queste persone qua li creeranno in inglese ma ci sono anche delle persone che te li possono creare in italiano per esempio giovanni trattino basso wix parla italiano quindi non avrà sicuramente dei problemi per 115 euro ce lo fa se vogliamo scendere c'è che ce lo fa 48 euro e sicuramente se uno scava a fondo li trova anche a meno certo magari sono dei siti copia incolla certo magari non è la soluzione più professionale e più figa del mondo però in certe situazioni è proprio la soluzione ideale perché veramente uno se non è capace o se parte da zero si deve mettere a imparare wordpress plugin temi hosting c'è un mondo dietro un mondo quindi se uno ha tempo da perdere ok studiate ci stanno tanti altri video su youtube ma se uno vuole fare il sito senza farlo la soluzione migliore file comprare